Il caso di Castel di Sangro per quel che riguarda la somministrazione dei vaccini balzanca gli onori delle cronache nazionali con un servizio andato in onda ieri su Rai 1 alla vita in diretta. Nello scorso weekend nel centro montano guidato dal sindaco Angelo Caruso erano previste le somministrazioni di 160 vaccini Pfizer e 80 di AstraZeneca per il personale scolastico. In molti però ha vinto la diffidenza dopo il caso dei presunti rischi poi rientrato e diverse persone si sono lasciate influenzare dal clamore che si è scatenato attorno al vaccino anglosvedese. Il risultato è stato che 60 persone hanno detto no ma grazie ad una lista alternativa preparata nessuna dose è andata sprecata come ha spiegato il sindaco Angelo Caruso. Una lista fatta in autonomia aperta anche a categorie diverse ma a rischio come può essere per esempio quella delle persone che lavorano con i rifiuti. Avevamo in qualche modo preventivato quello che poteva essere una lista di riserva quindi assurroga di coloro che avrebbero rifiutato in quel caso e quindi così è andata. Ovviamente parliamo comunque di categorie sovraesposte perché ancorché sia stata comunque individuata una priorità di figure parliamo del settore sanitario forse l'odio e quando ancora a mio modo di vedere nella comunità ci sono persone figure e categorie sovraesposte alla stregua delle altre che sono state vaccinate che andrebbero in qualche modo considerate prioritariamente quindi sostanzialmente credo che questo modello che noi in qualche modo abbiamo previsto insomma in maniera davvero autonoma e senza alcuna indicazione credo che sia la soluzione che possa essere in qualche modo diciamo da adottare a livello generale. Castel di Sangro dopo le restrizioni imposte dalla regione è attualmente zona rossa ma la situazione sostiene Caruso sta migliorando e ci sono persone che si stanno negativizzando per cui si spera di uscire presto da questa situazione dice. Abbiamo registrato sostanzialmente solo negativizzazioni, ieri eravamo 65 soggetti positivi rispetto al numero piuttosto elevato in precedenza che si è ovviamente ridotto all'esito delle verifiche che sono state rifatte su coloro che erano risultati contagiati. Quindi abbiamo ridotto notevolmente il tasso di contaminazione, credo che ci siano le condizioni per la revoca di questa misura che comunque scadrà domenica.